Il 9 aprile Italia dei Valori sarà in piazza, in tutte le piazze, insieme ai precari, insieme ai giovani precari, insieme alle false partite IVA, insieme ai dipendenti che continuano a fare lo stesso lavoro ma non vengono mai assunti a tempo indeterminato, insieme agli insegnanti e ai precari della scuola. Siamo insieme e siamo finalmente contenti che le piazze si uniscono per dire che il governo della disoccupazione Berlusconi sta generando un dramma, cioè sta tagliando il ramo dove è seduta l'economia, dov'è che l'economia riprende, quando riprende, quando si punta sui giovani. Ora, quello che sta facendo il governo e l'esempio che facciamo è quello della scuola in cui il ministro Gelmini, l'asino per eccellenza italiano, contro una sentenza del Tribunale di Genova che dice dovete applicare la legge europea, dovete assumere i precari della scuola che hanno lavorato almeno tre anni, lei cosa fa? Ovviamente essendo allieva di Berlusconi dice cambiamo la legge e quindi i precari non possono essere assunti perché si cambia ogni volta la legge, ogni volta che si va nell'interesse dei giovani. Ecco quindi che Italia dei Valori considera sia la battaglia del 9 aprile che è l'inizio contro il precariato, sia il voto che ci sarà in giugno per il referendum, per cacciare Berlusconi e per dichiarare che esiste anche un'Italia seria, saggia, buona, entusiasta di sé che vuole reagire alla crisi. Per tutte queste ragioni Italia dei Valori è parte di questo processo e in più diciamo anche che questa lotta dei ragazzi, delle ragazze precari rappresenta l'interesse anche di quelli che pensavano che prima non sarebbe accaduto nulla a loro, anche quelli che hanno 50 anni ormai sono tanti, migliaia e migliaia di casi di lavoratori che pensavano essere tranquilli e che a 50 anni vengono buttati fuori dalla produzione, dalle fabbriche, dagli uffici, dai posti di lavoro e anche loro sono precari perché troppo vecchi per essere riconvertiti in altre attività, troppo giovani per andare in pensione e quindi ecco che il tema del precariato è il tema delle persone coinvolte, in particolare nuove generazioni ma è anche il tema del paese, quindi i giovani riprendono in mano la leva del proprio futuro ed è per questo che il 9 aprile noi saremo con loro.